Ciao a tutti da GamingTube Italia, benvenuti nella video guida definitiva di Final Fantasy VII Remake. Grazie a questa video guida sarete in grado di ottenere e completare tutti i collezionabili e missioni secondari relativa al gioco, capitolo per capitolo. Tengo a precisare che tutto ciò che viene mostrato è fatto apposta seguendo l'ordine cronologico. Se cercate qualcosa in particolare vi rimando alla descrizione, dato che sono elencati tutti i collezionabili, armi, dischi audio, incidenti di Johnny, vestiti, eccetera. In ordine... No. Se cercate qualcosa in particolare vi rimando alla descrizione, dato che sono elencati tutti i collezionabili in ordine e con una timeline ben precisa. Questo è stato fatto proprio per aiutarvi qualora aveste dimenticato qualcosa in particolare. In questa video guida vengono saltati gli oggetti collezionabili che vengono... Oh, scherzo. Vi ricordo inoltre che al termine del gioco avrete la possibilità di selezionare i capitoli e che ogni cosa che avrete vi rimarrà sia nella modalità nuovo gioco più che nella modalità a difficoltà difficile. Vi ringrazio per la visione, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e mettere mi piace per questa video guida. Grazie e alla prossima. Ciao, baby, come ti faccio? Ho aspettato per te anche. Aspettate, chi è? Cloud è in charge di collezioni. Il prende il vostro money. Sui senti come una piaccia molto buona. Se tu ever bisogna qualcuno che si tratta, io sono il tuo amore. In i tuoi sogni, magari. Eh? Cloud? Uh, se che siamo qui, potremmo fare un po' di più di compito. Credo che posso prendere un po' di scopo? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.